supposizione. Perché non c'è una data. Quella che è più sicura stia a significare, si rivolga, si riferisca a Ave Maria Regina Celia, la Madonna, perché è più semplice per noi. Però potrebbe essere un altro parallelismo. Vi ho detto prima, la basilica di San Giuseppe da Copertino oggi è stata dedicata a San Giuseppe da Copertino, patrano di Osimo, solo a fine Settecento. Dal 1220, alla fine del Settecento, era la chiesa dedicata a San Francesco. Prima ancora, prima di essere la chiesa di San Francesco, era una chiesetta, che stava appunto dove adesso sorge la basilica di San Giuseppe da Copertino, dedicata a Maria Maddalena Penitenti. Infatti potrebbe essere Maria Maddalena. Però purtroppo non c'è una data, o comunque non c'è altro che ci faccia pensare che potrebbe essere un parallelismo. Nulla lo esclude.